Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video in collaborazione col Marchese Bianconero e infatti questa è la seconda parte, io vi invito ad andare subito sul suo canale a vedere la prima parte di questo video video che riassume i 11 momenti, i 11 momenti più belli di Allegri sulla panchina della Juve 11 come trofei complessivi di Allegri, per quello con la Juve, per quello abbiamo scelto 11 momenti e non 10 classici di una top 10, quindi godetevi questa seconda parte ma ovviamente se non l'avete ancora fatto andatevi a vedere la prima per godervi meglio questa Siamo al terzo anno di Allegri, Allegri in Champions League fa qualcosa di stupendo quell'anno perché ci porta fino a Cardiff insieme alla squadra con degli accorgimenti tattici come ricordate una partita memorabile di quell'anno là sicuramente non è la finale per quanto al primo tempo sia molto memorabile un bellissimo primo tempo della finale ma non è quello il problema, non è quello il discorso, non è quello il punto il punto è piuttosto il 3-0 al Barcellona appunto nei quarti di finale abbiamo rifilato 3 pere al Barcellona di Messi senza per Ronaldo tra l'altro 3 gol di cui 2 di Di Bale e 1 di Chiadini se non erro 3-0 importantissimo, poi al ritorno facciamo un pareggio ma il 3-0 è importantissimo perché dà fiducia e dà consapevolezza del fatto che siamo effettivamente forti forti quando la testa gira, in finale siamo stati forti un tempo ma secondo me nel secondo tempo testa e corpo non hanno girato così come avrebbero dovuto fare ma contro il Barcellona abbiamo dimostrato veramente tutto il nostro potenziale è una partita bellissima con Di Bala tra l'altro, è una partita meravigliosa in acqua e lì il paragone che poi si rivela poi insensato giustamente tra Di Bala e Messi come rene di perché poi Di Bala da quel momento ha avuto una fase praticamente calante a posto di andare in crescita, calato l'abbiamo visto leggermente lo scorso anno e molto col studio di massagione quindi effettivamente può essere che oltre agli altri problemi lo stesso Di Bala abbia in qualche modo un po' subito questa pressione mediatica sta di fatto che una partita là resta memorabile tutto è andato come dove andare ricordo tra l'altro oltre a Di Bala uno stupendo Pianici il miglior Pianici abbiamo visto in quella doppia sfida contro il Barcellona la partita scacchi perfetta, quella dell'anno scorso Napoli Juve 0-1, la rete di Gonzalo Higuain pronti via e soprattutto una Juve che ha saputo chiudersi e ripartire una partita che la Juve ha giocato come ho detto come se fosse uno scacchiere Allegri ha imbrigliato Sarri in una maniera meravigliosa il Napoli non è praticamente riuscito mai a tirare in porta e infatti l'occasione più nitida dopo l'1-0 di tutta la partita è stata la parata di Reina su Matuidi che ha sancito che ha fatto rimanere il risultato sull'1-0 ma la Juve quella partita tra l'altro verrà ricordata sempre per il gol del solito Gonzalo Higuain innescato da un contropiede perfetto tutto l'allegrismo in quell'azione difesa perfetta, ripartenza veloce, scambio di palla veloce e gol di Gonzalo Higuain, perfetto siamo veramente agli sgoccioli perché insomma l'ultima stagione, la penultima stagione meglio dire quella che ci ha portato in qualche modo a completare con la quasi rimonta che corre a Madrid ma non è quello il punto quanto il punto che ho scelto non è quella quasi rimontata perché non c'è stata quanto la partita prima, quella contro il Tottenham il 2-1 è una partita molto importante di consapevolezza europea che va a bilanciarsi con un 2-2 sempre nella loro sfida con il Tottenham il 2-2 chiaramente 2-1 è in nostro favore quindi passiamo noi poi troviamo la Madrid per quanto la rimontata del 3-1 del 3-1 appunto a Madrid sia importantissima a Bernabeu io credo che questa partita di contro il Tottenham sia ancora più importante perché il Tottenham è andato quest'anno in finalista ed è la stessa squadra lo scorso anno quindi effettivamente questo Tottenham non era poi così scarso era una squadra ostica in quanto molto simile alla Juve abbiamo sempre detto lo scorso anno che il Tottenham tra gli inglesi era la meno inglese effettivamente trovare una squadra anche molto simile a noi poteva essere difficile infatti effettivamente abbiamo vinto di poco, di un gol una partita molto importante perché poi si esprimono in questa remontata in questo cavolgimento di fronte quelle che sono le partite di Higuain e di Bala tocatori molto in qualche modo criticati per il loro rendimento europeo che in quella partita fanno in quelle due partite fanno molto bene bisogna dire la verità poi una bellissima difesa tra l'altro la nostra di là del 2-2 però di per sé alcune cose in quel 2-1 vengono fuori il meglio di sé lo scorso anno in Europa l'abbiamo andato in quella partita secondo me Inter-Juventus credo che sia la partita più come posso dire che ha fotografato di più non soltanto gli ultimi anni i 5 anni di Allegri ma ha fotografato anche più a livello emotivo noi tifosi è stata forse la partita più sofferta più bella più pazza più fuori di testa mettetevi quello che volete Juventus che rischia dopo aver perso in casa col Napoli di perdere nettamente lo scudetto a quel punto lì sembrava una cosa fatta per il Napoli che era comunque dietro di un punto ma la Juventus dove giocare a San Siro e a Roma non era assolutamente facile la Juve si trova in superiorità numerica in 11 contro 10 ma poi va sotto 2-1 sembra una partita destinata a portare l'Inter in Champions League e noi a lasciare lo scudetto a Napoli ma poi prima la perla di Quadrado in dribbling e poi la testata zuccata di Higuain in 5 minuti sono valse alla Juve il settimo scudetto consecutivo il quarto scudetto di Mister Allegri consecutivo e soprattutto a noi una delle più belle serate da tifosi della Juve aspetta a me in qualche modo finire questa escalation questi episodi che si accumulano nel tempo sono accumulati nel tempo sono solo 11 perché chiaramente credo che da quanto fatto Allegri si possa estrapolare molto di più così come anche espressioni negative chiaramente è ovvio però credo che bisogna dar merito a Allegri per quanto fatto e ricordare cose belle perché chiaramente quelle brutte sono le prime cose che ci ricordiamo quando c'è da parlare di qualcuno per quanto riguarda le cose belle spesso ce ne dimentichiamo e quindi siamo qui noi e Roberto a ricordare queste cose qua e voglio ricordare quella che è stata l'ultima partita di quest'anno forse la più memorabile di quest'anno che è il capovolgimento di fronte per quanto riguarda la partita agli attivi di finale contro l'Atletico Madrid il 3-0 dell'Atletico Madrid con un Ronaldo in grande spolvero un Ronaldo pazzesco che chiaramente l'abbiamo vinta anche grazie a lui ma anche grazie agli colgimenti tattici che appunto il Ministero Allegri ha messo in campo penso appunto alla posizione di Ambreciano partita memorabile perché la Juventus c'era quasi riuscita l'anno prima contro la Madrid c'era riuscita totalmente contro l'altra squadra di Madrid poi non c'era riuscita però contro l'Ajax questo perché chiaramente sono subentrati tanti problemi devo dire la verità che questa partita di quest'anno è stata la più bella anche perché poi come avete visto le minor action oltre a essere dal primo video più visto hanno avuto un impatto emotivo particolare per i tifosi una partita memorabile in una scasione forse andata un po' peggio rispetto alle altre almeno a sentimento però chiaramente questa partita è stata secondo me veramente totale molto 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 bella molto buona toccata bene con molto pathos tutte le emozioni al posto giusto peccato poi per l'esito dell'Ajax della partita contro l'Ajax bene ragazzi chiudiamo qua questo video io ringrazio ovviamente il Marchese Bianconero per la collaborazione ringrazio voi per aver visto questi video tutte e due ovviamente dovete averli visti così riuscite a fare una valutazione complessiva a me non resta che salutarvi dare appuntamento per i prossimi video del canale sia miei che del Marchese Bianconero ovviamente iscrivetevi a entrambi i canali e come posso dire fino alla fine Forza Juventus Forza Juventus